Far finta di essere sani, far finta di essere Vanno tutte le coppie, vanno, vanno Buongiorno a tutti ed è un grande piacere essere oggi qua con Francesco Centorame che oltre ad essere una persona che voglio molto bene è un attore che malgrado la giovane età, perché è il 96, ha già partecipato a alcune delle più importanti produzioni cinematografici degli ultimi anni Hai scelto un brano che è uno dei più sconosciuti, forse però non è una scelta facile ed è l'elastico è una canzone che a me fa impazzire per gli arrangiamenti, per la melodia per i colpi di scena anche nel crescendo, del canto, nel cambiare Vabbè, come ti è venuto in mente di scegliere una scelta che merita un approfondimento? È un brano pazzesco, l'elastico, a mio avviso, dal punto di vista strumentale e dal punto di vista emotivo Mi ricordo che correvo, il mio corpo mi seguiva Era un corpo primitivo, la mente lo tirava La mia mente che trascinava il mio corpo nudo Eravamo in due fra me e me Un elastico Fuori di me Fuori di me Fuori di me Era mio quel corpo umano La fatica mi seguiva La mia scelta è stata legata semplicemente a un fatto un po' più personale Cioè è stato per me l'elastico un compagno fidato in momenti magari di non lucidità Però mi ha donato qualcosa di cui secondo me l'essere umano avrà sempre bisogno Che è la comprensione 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 Che è la comprensione